Benvenuto alla quarantesima edizione delle Giornate del Cinema Muto. Siamo così contenti di essere a Bordenone ancora, in presenza. Musica dal vivo, vari appuntamenti online, ovviamente anche qui nel teatro. Quindi goditi la possibilità di non solo venire, ma anche seguire le cose che abbiamo per voi. Qui, anche vari appuntamenti ogni giorno, online e nel teatro. Quindi ci vediamo presto e grazie.